Per non sbagliare noi facciamo i tre gruppi di ieri. Perciò il gruppo con il mister Berlinghieri può già andare. Grazie. Poi il portiere con il mister Figliardo. Hai già andato? Allora il gruppo di mister Longo si mette un attimo qua per favore. Erano i 16, ormai ne manca due? Hai detto che erano i 16. Iniziate a portare i palloni qua dai. 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 Grazie a tutti. 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 Per il passaggio controllo con il piede e trasmetto con l'altro. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. 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 incontro. Buona. Buona via. via. Buona via. 1-1. Vai. vai. bravo. vai. ancora buona. vai. buona, gioca. vai. è buono. dai, vai. buona, buono. vai. 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 vai.